Ragazzuoli quest'oggi nuovissimo video oltre le altre due che sono usciti ma questo ovviamente è il video risolutivo della missione più difficile di queste sfide della settimana numero 13 passione PS settimana 3 mi trovo esattamente qui come al solito per le missioni più difficili e più lunghe qui sotto Gattogrill Perché esattamente qui ragazzi dovremo prendere l'elicottero che si trova esattamente qui e fare la missione di avanzare su tutti i 5 ponti colorati in una partita singola ovviamente ragazzi vi ricordo di andare qui perché è il metodo più veloce quindi semplicemente ragazzi già qui ne abbiamo uno che è quello giallo semplicemente ragazzi dovremo scendere dall'elicottero una volta che tocchiamo semplicemente il nostro ponticello e fare il balletto ragazzi Semplicemente un ballo bislacchissimo e qui già abbiamo fatto tra l'altro guardate qua che bella ma galaxy davvero fighissimo in ogni caso siamo già a 1 su 5 io ragazzi vi consiglio di fare il giro che sto facendo io in ogni caso qua siamo già praticamente arrivati al ponte verde cioè il secondo ponte da visitare e semplicemente ragazzi dovremo appunto scendere qui come abbiamo fatto prima e danzare una volta scesi appunto dall'elicottero Quindi raga tocchiamo il suolo e semplicemente ancora qui dovremo ballare addentratevi se non vi da la missione tac e tac e tac e siamo a 2 su 5 Terzo ponte signori è proprio questo qui incastrato nella montagna ragazzi esattamente questo qui che sarebbe quello tra l'altro blu quindi andiamo ancora qua e balliamo sempre una bella emot bislacca Quindi siamo a 3 su 5 riprendiamo l'elicottero e andiamo verso pantano ma prima ovviamente dobbiamo passare da borgo bislacco perché tra borgo bislacco e domino di du c'è proprio il quarto e penultimo ponte cioè quello arancione barra rosso E quindi eccoci qui nuovamente in un altro ponte appunto il penultimo quindi semplicemente scendiamo balliamo ancora e siamo a 4 su 5 Ormai questo povero elicottero l'abbiamo letteralmente devastato ma per fortuna siamo ancora in carreggiata e l'ultimo ponte ragazzi si trova tra foresta fregnante e pantano palpitante Lo vediamo già da qua ragazzi eccolo lì a 600 metri l'ultimo ponte cioè quello viola questa ragazzi secondo me è la strada più veloce per completare questa missione Altrimenti potete fare da là dove siamo partiti dalla montagna e venire qua a pantano e poi fare tutto il giro praticamente il giro al contrario diciamo invece che fare il giro in senso orario Non so molto bene in caso siamo arrivati all'ultimo ponte quindi ragazzoni questo era il semplicissimo video dovremmo danzare su tutti e 5 i ponti colorati che ci sono nella mappa Ci sono state un botto di missioni con tutti questi titoli qua ragazzi danza vai sotto i 5 ponti colorati visita tutti i 5 i ponti insomma è stata una bella missione anche nelle scorse settimane Nelle scorse stagioni e quindi l'hanno riproposta anche in questa settimana numero 13 quindi signori questo era l'ultimo ponte abbiamo danzato e quindi raga grazie a tutti per aver visto questo video Io in questo momento credo di essere ancora in live per unboxare la ps5 oppure l'avrò fatta qualche minuto fa in ogni caso bene ragazzoni ci vediamo nel prossimo video bar live ciao a tutti Ciao a tutti